Non posso più distribuire le 20 euro, quindi da lunedì prossimo chi viene si paga tutto da soli, sappiate, a gratis. Quindi, no, a parte gli scherzi, ringrazio tutti i presenti che ogni lunedì sera ci vengono a trovare qui al Caffè24. Ringrazio ovviamente Alessandro Genziani, titolare del Caffè24. Grazie per l'ospitalità. Grazie tante. Ringrazio Radio R9, spalle larghe, sempre dietro di noi. E anche se noi preferiamo stare sempre dietro di loro, però no, tu preferisci stare davanti, io me metto dietro. Emiliano davanti e dietro tutti quanti. E mi pare anche giusto. Ringraziamo tutti gli ospiti che ogni lunedì vengono a giocare con noi qui al Caffè24. Qui a Facciamo l'Amore, grazie della vostra disponibilità, grazie per la vostra simpatia. Volevo ringraziare tutti coloro che ci scrivono messaggi, ci mandano commenti, anche in posta privata. E qualche volta, ci dicono anche... Sì, sì, qualche critica la riceviamo, certo. Qualche criticuccia, insomma. Infatti non possiamo più dire ingoio, diciamo deglutire. Non possiamo più dire ingoio, quindi grazie a Anna C. Non diremo mai più ingoio. E ringraziamo tutti coloro che radiofonicamente escono di casa, perché ci arrivano messaggi anche del tipo Esco di sgasa due ore solo per sentire voi. Oppure rimango sul divano due ore, chiudo mia moglie e mio figlio in bagno per ascoltare voi. Noi vi ringraziamo veramente per la vostra presenza. Speriamo solamente di rubarvi due ore di grandi risate. Solo questo. Applauso. Ora, prima di lasciare la chiusura al mio amico Guerriero, ringrazio la Femini presente e un ringraziamento particolarissimo a Valentina, che questa sera è stata battezzata membro importante della Femini, nonché presentatrice di Facce da Radio, ogni pomeriggio su Radio R9. Facciamo un applauso a Valentina. A te la chiusura, caro Sogio Guerriero. Grazie ragazzi, grazie veramente. È stato bellissimo tornare qui dopo l'esperienza di Norcia, in cui abbiamo veramente sentito il calore. Ecco, il calore delle persone che seguono. Ragazzi, un ristorante, c'erano più di cento persone all'interno, è stata veramente una serata. E sono venuti tutti quanti per Facciamo l'Amore, perché quel giorno il ristorante sarebbe stato chiuso, quindi non era una serata del ristorante. È stato veramente fantastico, come è fantastico tornare qui a casa insieme ad Alessandro Genziani, che ci ospita come se noi fossimo veramente delle bravi persone. Ma non lo siamo! Non lo siamo, decisamente. Dicevamo, la chiusura del programma di oggi, 11 gennaio, è dedicata a David Bowie. Quindi vi leggerò una piccolissima frase di una delle sue uniche due canzoni d'amore, si chiama When I Live My Dream, e poi metteremo una canzone di David Bowie. Quindi con questo vi auguro buonanotte e buon proseguimento di serata qui al Caffè 24. Bambina, ucciderò un drago per te e bandirò i giganti cattivi dal paese, ma scoprirai che nulla nel mio sogno può farti del male. Ci ameremo semplicemente per sempre. Buonanotte e buon proseguimento di serata al Caffè 24. Buonanotte a tutti! Ciao, a lunedì prossimo! Grazie a tutti!